Buonasera, introduciamo il nostro angolo abituale di questa stagione che è l'angolo dell'educazione finanziaria. Torneremo su parola protezione che ci farà in piccolo escursus dopo alla fine su questa storia qui della protezione e cosa può fare un consulente finanziario in accordo e in collaborazione con il commercialista, in accordo e in collaborazione con Massimo e con l'avvocato, perché devono diventare i nostri alleati, ma ne parliamo prima. Adesso, angolo dell'educazione finanziaria, parliamo di risparmio gestito. Cosa è questa parola, il risparmio gestito? L'attività di risparmio gestito noi l'abbiamo sentita nominare spesso, soprattutto ultimamente, nel momento in cui abbiamo vissuto questa insicurezza, questa instabilità dei mercati, sempre di più non ci si focalizza più su un unico strumento. E la Brexit, e la Brexit, mamma mia. Non ci si focalizza, quello che abbiamo detto fino ad ora, abbiamo continuato a ripetere fino alla noia di dover diversificare, è obbligatorio diversificare proprio per non concentrarsi su un unico strumento. Ecco, la gestione del risparmio che viene effettuata dagli intermediari finanziari, quindi prettamente società di intermediazione immobiliare come le SIM, banche, società di gestione del risparmio, SICAV, le società di gestione puramente del risparmio, è un'attività che viene svolta su mandato fiduciario del cliente e questa attività si occupa di poter costruire il portafoglio del cliente con diversi strumenti finanziari che siano in linea con quello che è la profilatura di rischio secondo il profilo MIFID, quindi il rapporto rischio-rendimento che viene, diciamo, assegnato al cliente in fase di profilatura, in fase di conoscenza attraverso le domande del questionario. Il risparmio gestito è una risorsa, è uno strumento, diciamo, molto utile alle nostre famiglie proprio perché demandano attraverso la fiducia, quindi assolutamente è una parola fondamentale, quindi si costruisce un rapporto fiduciario ancora prima di dare il mandato di risparmio gestito, ma laddove ci sia un rapporto di fiducia tra il risparmiatore, tra l'investitore e il consulente finanziario che rappresenta o che propone un investimento e che rappresenta un intermediario finanziario in quel momento che è in grado e che ha dei team che sono in grado di fare questo tipo di servizio, viene proposto questo... Per rimanere in tema, sei medico di base e lì ci sono gli specialisti. Ci sono gli specialisti, assolutamente, quindi attraverso il mandato fiduciario che può essere un mandato fiduciario formalizzato, quindi è una gestione individuale, quindi il cliente formalizza un mandato, una delega proprio, un mandato fiduciario per la gestione dei propri risparmi e dall'altra parte c'è l'intermediario, c'è un team che lavora e che gestisce il patrimonio individuale dell'investitore e con gli obiettivi temporali, con gli obiettivi di rendimento e di rischio che ci siamo enunciati. Diversamente può essere anche fatto su base collettiva attraverso le società di gestione, gli ESGR, i fondi comuni, piuttosto che i fondi pensioni, piuttosto che le SICAV, come l'abbiamo detto prima. Oppure ancora attraverso, può essere una gestione di risparmio a livello assicurativo attraverso le polizze assicurative, come più volte l'abbiamo detto, all'interno delle quali c'è sempre la possibilità di fare un'allocazione di diversi strumenti... Polizze assicurative che ci verranno buone anche per la protezione più avanti. Un'altra tipologia all'interno della dimensione del risparmio gestito possiamo riassumere che ci sono due tipologie di approcci, due tipologie di modi di fare gestione del risparmio. C'è il modo attivo, c'è la gestione attiva e c'è la gestione passiva. La differenza è molto semplice e molto intuibile. La gestione attiva è quella gestione che posta un parametro di riferimento che tecnicamente si chiama benchmark, ma è un rendimento di riferimento al quale il gestore tende per dare risultati in termini di rendimento e di rischio al proprio investitore e cerca di fare meglio. Quindi da qui abbiamo le gestioni patrimoniali, per esempio, oppure abbiamo una gestione passiva laddove c'è una semplice rifacimento, si chiama replica, replicazione del benchmark, perché si ripete in modo fotocoppia quello che è l'allocazione degli strumenti di investimento all'interno del risparmio gestito. Ovviamente perché ho voluto fare questo piccolo focus di approfondimento? Perché è chiaro che la gestione attiva avrà dei costi più alti rispetto alla gestione passiva. Abbiamo del valore aggiunto. È chiaro che il valore aggiunto di un gestore che prende l'iniziativa e che quindi si preoccupa di acquistare o vendere degli strumenti per rimanere sempre allineato col profilo di rischio del cliente oppure che è attenta alla tipologia di strumenti da mettere in portafoglio per tenere sempre, assolutamente, questa è la frase fatidica, per monitorare il rischio, perché è questo il compito assolutamente che abbiamo oggi in termini di protezione e il monitoraggio del rischio. Quindi è per quello che ho fatto questo piccolo focus. Benissimo, dove ti trovano Giusy?